La differenza è sensibile nelle manifestazioni, l'ipertiroidismo è una patologia caratterizzata da un eccesso di ormoni tiroidei circolanti che determinano effetti sugli organi bersaglio, come per esempio l'apparato cardiocircolatorio, quindi tachicardia, ansia, insonnia, dimagramento, possono essere alcuni dei sintomi palpitazioni, cardiopalma, dei sintomi tipici di questi pazienti. L'ipotiroidismo invece è caratterizzato da una sintomatologia opposta, questi pazienti tendono ad ingrassare, perdere i capelli, hanno i riflessi non aumentati e accelerati come nell'ipertiroidismo, ma rallentati, c'è un senso di stanchezza, di astenia, mentre il primo è una patologia, l'ipertiroidismo, che può andare incontro dopo il management medico e quindi l'insuccesso alla fine della terapia medica ha un trattamento chirurgico risolutivo. Nel secondo caso l'ipotiroidismo di per sé non è una patologia chirurgica a meno che non compaiano nell'ambito della tiroide dei noduli che possono essere sospetti, quindi all'ecocolordoppler avere per esempio un pattern 3, che significa che sono dei noduli solidi e con la vascolarizzazione all'interno della lesione e quindi magari con il sospetto diagnostico o all'ago aspirato o macroscopico nell'imaging preoperatorio essere portati anche questi al chirurgo.